Ciao bambini, come va oggi? Allora, io mi sono vestita colorata, vi piace il mio look? Look significa come ti vesti, come ti vedi, diciamo, a meglio, come mi vedono gli altri che io da sola, insomma, che poi qua non c'è nessuno, ma chi mi deve vedere in fondo? Vabbè, lasciamo perdere e rimandiamo per un altro momento a questi discorsi. Comunque mi sono vestita tutta colorata perché c'è il sole e perché così mi sembra di fare una festa e mi diverto! Allora, avete fatto ieri la sfida? Come è andata? Come è andata? Quanti punti avete fatto? Chi ha vinto? Ditemi, sono curiosissima! Io ho vinto perché giocavo da sola, è facile vincere quando uno gioca da solo, infatti ho vinto! E pure tu hai vinto? Bravo! Pure tu hai vinto? Brava! E siete forti, eh! Allora, oggi vi faccio un altro gioco, vi faccio vedere perché l'altro giorno ve l'avevo raccontato, ma non ve l'ho fatto vedere, è un gioco che mi piace tantissimo, è la campana! No, non quella che suona nella chiesa, che ti fa venire un mal di testa, no, neanche la campanella della ricreazione, quella è bella, quella è bellissima! No, neanche la campanella quella che suonano a lavarsi le mani, no, 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 neanche quella, è più bella, è la campana dove si salta, sì, sì, si salta, si salta, le faccio vedere, allora io l'ho disegnata per terra, vedete? Con lo scotch di carta, spero di fare... Eccola qui, guardate, eh! La mia un po', un po' vi metto una foto sotto, è un po' particolare, perché non l'ho voluta fare normale, sembra un po' una strana, vedete? Cioè, uno, due, tre, al contrario, i numeri, tre, quattro, sembra un missile, e poi, puff, c'è la nuvola! Allora, il gioco lo conoscete tutti, ma ve lo ricordo, si prende qualcosa che si lancia, io ho sempre il mio fantastico pom-pom, 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 pim-pom, pom-pom, pom-pom, questo qua, e lo lancio, voi potete fare una pagina di carta, insomma, qualcosa che non si rompe, potete tirare un po' tutto, qualcosa che non si rompe e che non rompe qualche altra cosa, anche, per esempio, un sasso, un sasso non si rompe, ma tirare un sasso sul pavimento di casa potrebbe rompere il pavimento di casa, meglio non farlo. Allora, una cosa che non danneggia nessuno, come questa, e si tira, si comincia dal primo, però facciamo finta che adesso siamo un po' più in là, per esempio, che io ho fatto già cinque volte, si tira e devo andare a colpire il numero cinque, se io ho già fatto cinque turni, e già non è facile, così. Ecco, se n'è andato sull'otto. Ah no, aspetta, non è vero, va bene, può arrivare dove vuole, l'importante è che lo raccolgo, scusate, anche io a volte mi confondo, ora devo andare lì fino all'otto, solo che è lontanissimo, quindi vorrò mettere questo qui, e lo devo raccogliere senza cadere, mi raccomando, rispettando i numeri, vado, è pronto, dove c'è un quadratino, una figura, un piede, dove c'è sono due, due, poi parto, uno, due, tre, questo è piccolo piccolo, quattro, anche il cinque, il piccolo piccolo, cinque, sei e sette, l'otto invece, guarda, addirittura, centro tutto, con un piede, prendo la pallina, nove, ho fatto un punto, e esco fuori. Insomma, si gioca così, però la cosa bella è che le campane le potete fare di tutte le forme che vi piacciono, la mia sembra un po' un'astronave, adesso continuo a giocare, mi devo allenare perché non sono andata benissimo, provateci anche voi, fatemi vedere le vostre campane, mettete le foto, così vediamo chi ha fatto la campana più bella, sempre con lo scotch di carta, che non lascia segni, basta che lo togliete, non dopo sei anni, ok? Come vi ho detto ieri, ciao bambini, ciao famiglie, non mollate, restiamo uniti, ci divertiamo anche a casa, ciao dal Mirimondo, dal Mirimimi, vabbè, ciao da me, ciao, ciao!